No, 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 i piedi sono super saldati a terra, io penso esclusivamente ad andare sul palco e a fare del mio meglio. E domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi, sopra soli già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. Nel video sinceramente ci sono tutti questi dettagli perché ci sono questi look, ci sono questi personaggi che sono diciamo metaforici di stati d'animo e di momenti diversi di questa storia che sto raccontando da un anno e mezzo. E sinceramente è l'episodio successivo ed è un po' come se dentro questa canzone, dentro questo racconto ci fossero tutti i piccoli pezzi delle canzoni precedenti. Per questo appunto nel video ci sono tutti quanti, ci sono i tre personaggi di prima e poi ci sono io, così come mi vedete, sincera, sinceramente. Allora, il pregiudizio, in generale mi fastidisce proprio il concetto di pregiudizio, perché bisognerebbe essere empatici, provare a mettersi nei panni degli altri e poi dopo con un po' di riflessione esprimersi e dire la propria opinione. Ecco, il pregiudizio che mi piace meno probabilmente è quello legato forse alla superficialità, quindi il travisare, il fraintendere la leggerezza con la superficialità. Un giorno capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Guarda, ci credo tantissimo in questo concetto e non solo, quando si scrivono canzoni, quindi quando ci si trova in studio e ci si apre, devi proprio trovare le persone giuste, quelle con cui c'è una sintonia ma anche un modo di pensare simile, una sensibilità simile, è una cosa rara e quindi questa cosa va assolutamente tenuta preziosa. Allora, io che cosa faccio di solito? Io ho bisogno di stare un po' da sola, quindi dopo la preparazione e tutto, quindi con il mio team, a un certo punto rimango da sola e mi faccio un bel ripasso mentale di tutto quello che devo fare, quindi mi riascolto il pezzo, mentalmente mi immagino di essere sul palco, mi immagino tutto, faccio questa roba qua. Bevo un po' d'acqua, uno spruzzino per la gola, queste robe qua che mi fanno sentire tranquilla e poi vado. Mando un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Come era il mondo prima di te? È di te, è di te, è di te, è di te, è di te.